Uomini e donne, nota coppia nata nel programma racconta un episodio spiacevole con le dell'ordine, ci ha fatto il dito medio, ci stava mettendo sotto con la macchina. Brutta disavventura per una coppia nata all'interno di uomini e donne che ieri ha avuto una forte e brutta litigata con le forze dell'ordine. Stiamo parlando di Sara Shaini e Sony Di Meo che da pochissimi giorni hanno condiviso una lieta notizia dell'attesa di un bimbo. Ecco come ha anticipato il lungo raccontato Sara attraverso il suo profilo Instagram. Poi l'extronista ha iniziato raccontando l'accaduto. Sara ha poi proseguito entrando nel dettaglio dello spiacevole evento accaduto a lei e al marito. I novelli sposi però non avrebbero in alcun modo contestato la multa e neppure la situazione creata. Ma, stando al racconto, la reazione della vigile e del collega in macchina con lei non è stata altrettanto pacata. Sara Shaini ha poi proseguito nel lungo sfogo raccontando che il conducente a quel punto stava mettendo anche sotto con la macchina Sony. Sara Shaini inizialmente ha raccontato di aver provato a filmare la scena, scatenando ancora di più la reazione alterata dei poliziotti. Alla fine il racconto è così terminato. Grazie. Grazie.